Date un'occhiata a questa stupenda proprietà da Berry Plant. Non perdete l'occasione, questa bellissima casa potrebbe essere la vostra. Questa proprietà comprende una cucina eccecinalmente arredata che renda semplice la preparazione dei pasti. Un soggiorno perfetto per fare divertire e rilassare la famiglia. Gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti. Questa proprietà è veramente rimarchevole. Contattarci per ulteriori informazioni. Grazie.